Questi sei vostri ragazzi hanno scelto di impegnarsi, scelto di sacrificarsi e di buttarsi nella mischia per 23 volte nei prossimi 4 mesi, di rappresentarvi e dare luce alla scuola. Questo tipo di impegno e di sforzo richiede e si merita il nostro rispetto. Signore e signori, benvenuti a questa finale del campionato di basket. Mi chiamo Norman Dale, ho allenato nel college per 10 anni, ma da 12 ho accantonato questo, perciò avrò molto da imparare da voi come voi também. Io so tutto quel che c'è da sapere sullo sport più grande di tutti. Sa anche di me allora. Io ho preso nota di come lei ha domato i pulite. Lei mi sbatte così e se vuoi tornare impara a stare zitto e ad ascoltare. Conosco quelli come lei, un uomo della sua età che si rifugia qui. Fugge da qualcosa o non sa dove altro andare. Ma lei non sa niente di me. C'è in gioco ben altro che una partita, non credo. Un eroe del basket è trattato come un dio? Molti sbavano per essere trattati come un dio. Non state a pensare se potete o no vincere l'incontro. Se ci metterete la grinta e la concentrazione per giocare al massimo delle vostre possibilità, non mi interessa quello che potrà essere il punteggio finale. Per me saremo noi i vincitori. Dobbiamo vincere per tutte le piccole scuole che non arriveranno mai qui. Io voglio ringraziarvi per questi mesi. Sono stati stupendi. Sì. 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 Sì.